Ehi la ciurma! Io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su MindTest Ita! Finalmente ho risolto... prima andiamo a dormire però... Nello scorso episodio ci abbiamo... ci abbiamo... Abbiamo provato un po' a... con la questione del sorting ma ci sono stati un po' di problemi Perché il query principalmente non scavava, nel senso quando noi eravamo in labo... Adesso non dirmi che si è... si è sfappato tutto, eh lavorava fino a due secondi fa Ah no, ok adesso funziona Forse quando ci teletrasportiamo si bugga un po' Comunque il... il problema era che quando noi eravamo di là alla fin fine il query non spediva niente Nel senso non arrivava più nulla E quando ritornavamo in qua alla fine sembrava come se stesse ricominciando dall'inizio Mi scuso se ho la voce ancora un po' nasale ma è perché non sono ancora del tutto in forma Nasalmente parlando, ho aggiunto un po' di torce qua in giro per illuminare un po' E assolutamente non so cosa fosse dovuto perché l'admin anchor c'era E teneva caricato il tutto, adesso dovrebbe... Ma Kaiser l'ha fatto fino a due secondi fa Ma che Kaiser? Ehm... query Cioè funzionava fino a due istanti fa E... è... è una questione del... Di sto stupido ambaradà del... Del chunk loader Alla fin fine, perché... Ehm... Oh, adesso funziona, vedete? Io gli ho aumentato il range ma forse effettivamente non era una questione di range Era una questione che, boh, quando rientri vuole che tu gli ridica... Ehi... stai caricato Perché se no si vede che si... si sfappa, non lo so Non... non... non so come mai Ok, boh, avete visto? Disabilitandola, riabilitandola Adesso è partito tutto La... Diciamo il... Design di questo l'ho usato quello stesso dello scorso episodio Ho disabilitato il blu in modo che non possa tornare indietro Beh, il giallo perché non c'è, sarebbe in basso ma non esiste Ho messo qua indietro il nero tutti i preziosi Cioè preziosi Ho messo il carbone, quelli che non hanno bisogno di trattamento In pratica il mese Il carbone, l'acalin Quando ne arriveranno altri li metterò Forse non ci staranno nel numero di 6 Ma adesso poi vediamo Dal bianco ho messo solo la cobblestone Che appunto con i teleport tube Va nella stanza della cobblestone Adesso andremo a vedere Nel rosso ho messo i minerali che vanno trattati Che poi appunto avranno un... Teletrasport... Ecco, non so come mai Continua ogni tanto a dare sti errori del cavolo E l'ora tolgo la chat Non so se voi sapete qualcosa di cosa voglio dire Cioè dice Trying to store the statically but block already contains 49 objects Boh, è come se ci fosse un blocco dove ci sono 49 oggetti Però mi sono provato ad andare Prima era 7, 0, meno 2 E non c'era niente Adesso mi dice 10, 0, 1 Non lo so E... Appunto questi appena avremo i materiali Potremo inviarli in automatico qua sopra Dove c'è il trattamento dei minerali In realtà potremmo anche fare dei tubi Che partono e vanno su Ma è più brutto Quindi quando avremo i minerali Il mese Ce ne basta un cristallo Perché non c'è Ce ne manca uno di cristallo Per poterci permettere un altro teleport tube Ah, sì Sì, esatto Cioè per mettercele due Uno sopra e uno sotto Li manderemo automaticamente su Qua per ora ho messo tutto il resto Nel senso non ho messo nessuna impostazione E sono quelli che poi andranno nella chest varia Diciamo che sono più che altro blocchi da costruzione Andiamo a vedere rapidamente Anzi Faccio che prendere 3 stack di questo E 4 stack di desert sand Adesso vi andrò a spiegare perché Però intanto lo prendo Perché ho dei progetti Ma adesso prima voglio spiegarvi tutto per bene Come è andata a finire la storia Salve hater Come sta? Come va? Tutto bene? Bravo, 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 bravo Là stiamo accumulando un fottio di legno Ma Mi servirà poi per fare la nave quella grande Di cui ho già in mente il design Ma ci vorrà un sacco di tempo E adesso siamo quasi in sessione esami Quindi credo che rimanderò per un attimo Qua come potete vedere c'è tutta la cobblestone che arriva Credo che quando qua sarà pieno Andrà negli altri Dovrebbe fare così tecnicamente Adesso non ho bene idea perché qua ne manca ancora un attimo Ma lo scopriremo Ho aggiunto qua dei sorting tube alla fine Che appunto dovrebbero impedire che vengano buttati fuori gli oggetti Qua va sempre dritto perché è quello più veloce La appunto stavo dicendo stiamo accumulando un sacchissimo di legno Ma credo che non basterà per il design che ho in mente per la nave Perché non sono neanche tantissimi stack alla fine fine Qua abbiamo un po' di plastica alla grande Moltiplicate tutti quelli che vedete con 1 per 9 E quelli con 2 moltiplicateli per 81 Quindi CG Abbiamo parecchia plastica Credo che non avremo più preoccupazioni Anche di cibo Adesso abbiamo il pane di là, le mele di qua Le bacche di goji Quello che sono Allora noi ci trasferiamo un attimo qua Per un piccolo progetto Che mi è venuto in mente Della serie Facciamo un po' di casette per il nostro mondo Così che quando ci spostiamo Siamo un po' in giro Possiamo Dormire Diciamo e settare rapidamente il giorno E non stare così a bighellonare In mezzo al buio Allora mi è venuto in mente Un piccolo design qua Per una piccola casetta del deserto Che appunto è abbastanza Easy peasy Lemon squeezy Come direbbe il mio amico Surreal power Allora io andrei a fare una casettina Abbastanza Piccina picciò Magari Con qualche cosa di Tipo Così Un po' sul Che non sia completamente dritta Ecco Però così forse è un po' troppo grande Alla fine è solo una casettina Una casupoletta E non dovrebbe essere qualcosa di Se la facessimo tipo Ellittica Cioè Più o meno ellittica Nel senso che qua comunque Essendo in un mondo a blocchi Un po' 4 e 4 2 2 2 Potrebbe starci Non è male E se invece fosse più circolare E se invece fosse più circolare Tipo che qua Mettiamo così E qua Idem Tipo così No mi sa troppo di Oblunga Così No non mi piace particolarmente Così A più che altro Perché qua ce ne sono solo U Cioè si distacca solo di U Non lo so Ma preferisco così Mi piace di più In un po' D'altro Modo Così E poi magari Mettere Però mi turbo un po' Così che sia pari Facciamola Dispari Magari In modo da poter Avere Una porta D'entrata Unica Ecco E non due E avercela comunque Simmetrica Tipo così Una porticina qua E Però no Così ci sta Forse il O più Oblunga Perché sennò Altrimenti sta tanto Di Stretta Vediamo così Come potrebbe Apparire No non ci arrivo Ok Ehm Sì Piccino a picciò Molto picciò E molto piccino Però giusto Per un lettino Due chest Allungherei di uno Sto Sto Continuando a cambiare Idea Eh ma Se uno vuole Una Un bel design Diciamo Ci sta che Ci si lavori Un attimo Sopra Ecco Sì Così 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 mi sembra Più Carina Però forse Così non è più Simmetrica Con il Retro Perché No no Sì così mi piace Di più Ci sta Ci sta Sì E mettere Magari Abbiamo del vetro Colorato Non mi ricordo Più se c'è Del vetro Colorato Qua No No non c'è Il vetro Colorato Ci sono Eh al massimo Le lampade Ma niente Vetro Colorato Era in un'altra Mod In una serie Che avevo fatto Prima Vabbè no Non era una serie Non avevo fatto Dei video Su quello Però Boh Potremmo farla Sul Le vetrate Allora no Qua lo farei pieno Innanzitutto Qua pieno Ci mettiamo la porta Poi Però sono indeciso Se No alto Quattro Per forza Cioè no Alto tre Per forza Perché altrimenti Non si può neanche Saltare Un po' Odioso Quindi Il tetto Sopra di quello Quindi mettiamo Così almeno Anche Ta ta Adesso Ai vetri Pensiamo Tra un attimo Andrei più che altro A fare prima Il tetto E poi dopo Pensiamo Anche ai vetri Allora Come Non mi dispiace Non mi dispiace Come design No Per niente Ha una Tipo Sa un po' Di brick Di mattoni Ma Un pochettino Più irregolare E Non è male Secondo me Spezza abbastanza E ci sta Sa Tipo Non lo so Di Mausoleo Una cosa così A proposito di mausoleo Potremmo mettere Una cosa Si sto facendo Una cosa tipo Stortissima Potremmo mettere Una cosa tipo Così Che si è rialzato Ah e poi Il soffitto Avevo intenzione Di farlo Con La sandstone Che abbiamo Che possiamo utilizzare E secondo me Si può sposare Abbastanza bene Perché È abbastanza pulita Ho una mezza idea Di fare magari Dei Sandstone brick In realtà Perché La sandstone È un po' costosa Ma tanto di sabbia Ne abbiamo E poi si può creare Con la cobblestone Non è troppo un problema Perché appunto Come in minecraft Da 4 blocchi di sand Ci da un blocco di sandstone Perché come se fosse Della sand compressa Insomma Ecco Avevo una mezza idea Di farlo Con i Sandstone brick Di cui ho visto Che ci sono anche Le scale Se non sbaglio Sandstone Sandstone brick Sì ci sono Ci sono gli slab E ci sono le scale Ed è Una gran bella cosa Io quindi Andrei a fare Di Sandstone brick Dovrebbe darcene 99 Quindi uno stack Ah no Cribbi Perché quali sono Il numero di 3 E quindi Ci rimangono così Però Non è grave GG Allora Andiamo a fare un attimo Delle scalette Vedere un attimo Come La va Tipo Eh no Ecco Magari Ti giri Ho già capito Ci conviene Prendere il nostro Carissimo amico Qua che fa un rumore Assordante Ma che almeno Funzeca Allora Allora Questo così Perfiet E ci mettiamo Uno slab Sopra Che dite Uno slab Di brick Così E andiamo a vedere Un attimo Come Risulta Questo No Forse fa schifo Effettivamente Stacca un po' Troppo Credo che sarebbe Stato un po' Carino Così da staccare Ma Non lo so Forse mettere Pieno Quel blocco In centro Cioè qua Al posto Che mettere Quello di Desert Cobblestone Mettere Il No Buonanotte Bisogna Il blocco Intero Non mi fa Mettere Lo slab Sotto Lo slab Cioè No Non mi sono Non sono stato Chiaro Però Forse Così Facendo Questa Zona Centrale Qua Aha Così Da fare Però Con gli slab In mezzo Che stacchi Un Due Un Due No Ecco Ok Una casettina Così Mi sta ispirando Però adesso Dovrei andare A fare Allora Qua slab Slab La zona esterna Con slab Qua La scaletta Così Poi slab 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 12 dovrebbero bastarci Vediamo un attimo Mi sta venendo Un Un lampo Di creatività Vediamo un attimo Come Appare Allora Poi metterei Così 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 No Là ce ne va Uno A tre Lo metterei Ma anche qua Io metterei Quello a tre Com'è che Fun Ma forse non c'è Con i micro block No Non c'è Infatti Posso farlo Con la sandstone Ma non posso farlo Con la Con i sandstone Brick Vabbè Ci arrangiamo Ma è che Con i brick Mi piace di più Perché mi Mi sembra più Simile Alla Allora Vediamo un attimo Qua come fare Il design Qua farei Più che altro Qua magari Metterei un blocco Intero Tipo così Ah qua Giriamo Allora qua Mettere così Sì Sì qua Giriamo Bloc Intero Qua Cosa Anche qua Ma tre di seguito Non mi piace Tanto come cosa Andrei magari Già direttamente Col blocco No Allora Questi Allora Questi mettiamo a posto Così Che ci sta Però qua Non mi convince Vorrei farla Un pochettino più Se qua Mettessi il blocco Direttamente Forse sì Forse così Sì Sì Mi sta piacendo Qua Stare Ah no Cribbio E di slab Vado di slab Sì Sì Così Ah ah E di qua Facciamo il simmetrico Quindi era Blocco Stare 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 Blocco 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 Tre slab Blocco Vorrebbero bastarci Sei Sì No 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 Non là Non mi dispiace Proprio per nulla Mettere Eh sì Naturalmente Sospesa Sospesa Nell'aria Mettiamolo Ecco Mettiamoli qua Nei quattro angoli Con i blocchi Interi E andiamo a dare un'occhiata Come appare Dall'esterno Il tetto Mi sta Un sacco Sì Simpatico Ma Direi di più Direi di mettere Un Un blocco centrale Rialzato Qua Così Visto che è centrale Perché abbiamo dato un po' Un Un fattore di simmetria Così Quindi Anche se forse Il tetto Stona un po' Diciamo Con quello che è La struttura Della casa No A me piace Non si sviluppa Tanto in alto Ma Ci sta Ci sta Se mettessimo Dei I così Sporgenti Così Forse Sta ancora meglio Con gli affari Sporgenti Vediamo un po' Se per 4 e 24 Dovrebbero Darci almeno Un'idea Credo che Non basterebbero Però Per darci un po' Per darci un'idea Dell'aspetto finale Diciamo Ecco Se Sì forse Sì forse con Sì forse con Delle sporgenze Così Sta un po' Meglio Perché Da meno L'idea Di 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 Squadrato Ecco Sì Sì qua Sistemiamo Tra un attimo Giusto per non Incasinarci La vita Un Due Tre Ok Così dovrebbe Già dare Abbastanza L'idea Vediamo Rapidmente Potremmo Potremmo tipo Giocarci a calcio Adesso su quel tetto No però mi piace Mi piace come idea È un po' Molto largo Come tetto Diciamo Rispetto alla grandezza Dell'abitazione Però secondo me Ci sta Secondo me ci sta Secondo me È un Design abbastanza Accattivante Ecco Facciamo No com'è che era Davanti Forse ho fatto Una cavolata Non era così Com'è che l'ho messo Davanti Uno e tre Ma davanti C'ho i cinque blocchi dritti Là non Allora qua C'ho i cinque blocchi dritti E quindi sono cinque blocchi Mentre qua C'ho il Il coso sporgente Quindi sono Due Due Uno Due Se Ci può stare Eeeh Vetri 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 Lo vediamo dall'interno Più che altro Vetri Allora io direi di mettere Un vetro qua No Sta male Sta male più che altro Perché non ha sostegni a lato Dobbiamo metterlo Dove troviamo dei sostegni a lato Tipo Qua O qua 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 Sì La Qua Metterlo così Di vetri Di vetri ad angolo Così Poi beh Uno in questa zona centrale E uno in questa zona centrale Direi che ci sta Un sacco Mettiamo delle torce Eeeh Qua e qua Qua E qua Aha Non è tanto Luminosa però Come zona È molto Sul cupo Sul cupo Ma GG GG E qua forse Magari mettere Della sandstone Per terra O mettere Del legno chiaro O lasciarlo Anche così No Forse è più bello Sostituire Però Per ora Direi che potrebbe Andare abbastanza bene Qua ci sta Ecco qua Secondo me Zona proprio centrale Ci mettiamo Una chest Normale Però no Non voglio una chest D'oro Mi sembra un po' Esagerato Una chest Giusto per Ok Così Magari mettere Ne tre Mettere tre chest Un due 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 Si 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 Mi piace Mi piace E il letto Lo mettiamo Da uno Dei due Lati Tipo Qua Andiamo a prendere A casa il letto Che abbiamo in avanzo Lo piazziamo Qui E' buon E' buon E magari Andiamo Facciamo già Sandstone Prendiamo la sandstone Da mettere come pavimento Ci proviamo Si dai Prendiamo Si questo Dovrebbe andare bene Ma la sandstone Però come Che sture E' abbastanza Quell'altra Quella sand Non cambia molto Con la sand Vero La sand C'ha forse Queste striature Che la sandstone Non ha Però può fare rumore Di sabbia E può fare rumore Di pietra Ehm Non lo so Però Però là Non è sabbia chiara Effettivamente Sabbia del deserto Quindi secondo me La sandstone Che è chiara Ci sta un sacco Ehm Cosa eravamo venuti A prendere Però qua Non eravamo venuti A prendere questa Ah eravamo venuti A prendere il letto Mettiamo questo qua Piccino Che tanto Due qua a casa Sono abbastanza inutili Che bello No mi piace Mi piace anche Come appare così Da lontano Ah il vetro Devo prendere Scemo Di uno E' un pochettino Cupo dentro Però non mi dispiace Ehm Proviamo a mettere La sandstone qua A vedere come Come lucca Questa posso Metterla qua All'entrata Sì Mi piace Così No però mettiamola Tipo che E' chiastica Con il letto Cioè Che forma Tipo una X E un Eh no Devo farne Un bel po' Di aspettate Andiamo così E GG Ma forse non ci basta Neanche perché 90 diviso 4 Sono poi Pochissimi Pezzi Beh infatti 24 Ma forse ci bastano 24 Adesso vediamo Ho una palla Perché non usarla Per effettivamente Raccogliendo Questa Ne accumuliamo Un po' di più Qua Rimettiamo a posto Anche là Mi sa molto più di spiaggia Così in effetti Di casetta Dalla spiaggia Però No E' un sacco E' un sacco carino Come stile Eh no Però non posso Vai così Sì e poi Sì no Ne ho presi 3 Ma me ne servivano Di più Credo Sì infatti Ancora 2 Quindi 1 2 1 2 1 2 1 2 E' bestia Sì Mi piace Mettiamo anche magari Delle torcette Qua in basso Ed ecco qua La Fabulous Così Sì Così meglio Così si vede Anche dalla Perfetto Ed ecco qua La nostra Favolissima Casetta Del deserto Per questo episodio È tutto Io vi invito A lasciare un mi piace Se per caso Vi è piaciuta Questa Casupolina Che è un po' inquietante Da così Ecco così è più carina Mettere la porta Mettere i vetri Ci vediamo al prossimo episodio Commentate Iscrivetevi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.